Dopo la rivoluzione del 1917 l'Accademia cambiò il proprio nome e da quel momento si chiamava Fkutemass. In questo momento trovano Fkutemass, studiarono e lavoravano così bellissimi e grandi persone che siamo conosciuti come poeti, artisti Vladimir Maykowski, Kandinsky, Malevich, Tatler e, ovviamente, Roccioc. Quel periodo, periodo specialmente degli anni venti del novecento, era un periodo particolarmente ricco per l'Accademia che ospitò tra i propri professori forse gli artisti più noti di quel periodo. Si tratta del poeta e scrittore Vladimir Maykowski, si tratta dei pittori tali come Kandinsky, Malevich, Tatler e sicuramente il famosissimo Roccioc. Quindi oggi noi con un grandissimo piacere, con un grande onore, presentiamo ai nostri colleghi e ai nostri amici una mostra, una mostra particolare dedicata all'avanguardia russa da Eisenstein a Rocci. Grazie. 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 Grazie a tutti qui presenti, non ci sono mancate le occasioni per commemorare e ricordarci i nomi dei grandi nostri artisti. che hanno lavorato qua, hanno vissuto qua su queste terre del Sorrento, si tratta del pittore Silvestre Shedrin, sulla tomba del quale noi abbiamo avuto l'occasione di, la tomba del quale l'abbiamo visitato oggi. Si tratta anche sicuramente di Maxingorchi e di molti altri russi che vengono qua. Grazie. 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 Grazie.